Ciao a tutti signori, eccoci qua da Milano, Fabio Cibello, il coach dei venditori. Questo breve video ho deciso di farlo per rispondere ad alcune domande che mi fate spesso su YouTube, su LinkedIn, soprattutto su YouTube, sul mio canale YouTube. Se non è ancora fatto, iscriviti subito al mio canale YouTube, cliccando sul bottone qui sotto iscriviti e attivando la campanella su tutte le notifiche in modo tale che appena pubblico un nuovo video, beh, insomma, puoi ricevere le notifiche e quindi guardartelo subito. Allora, la domanda è questa. Fabio, quando sono in una trattativa commerciale, quindi davanti a un potenziale cliente, e insomma ho una sensazione che c'è qualcosa che non va come dovrebbe, magari ho una sensazione che insomma non sono vicino alla chiusura, c'è qualcosa che non lo convince, cosa posso fare? Allora, naturalmente ci sono diverse cose. Adesso ti do un piccolo suggerimento molto utile, molto funzionale, che puoi applicare da subito nella tua trattativa di vendita. Quando abbiamo di fronte persone che capiamo a pancia, o magari ce l'hanno anche espressamente dette, ma diciamo a pancia che non sono poi così ingaggiate, convinte, ok, a fare magari del business con noi, è perché spesso hanno qualche convinzione limitante, hanno qualche paura, o c'è qualcosa comunque nella tua presentazione, c'è qualcosa nel tuo prodotto o servizio, o magari anche in te stesso che non li ha convinti abbastanza, insomma, da fare questo passo, da iniziare a fare del business con te. Una domanda che ti suggerisco di fare, è una domanda molto semplice, ma molto efficace, che ti può aiutare a capire innanzitutto, capire due cose sostanzialmente. La prima è se effettivamente hai qualcuno davanti che vuole fare del business con te, che comunque sia l'interesse c'è, anche magari in fondo, in fondo, in fondo, ma l'interesse c'è. Il secondo obiettivo, quindi il secondo beneficio di questa domanda, che adesso ti vado a suggerire, quindi resta con me in questo video, beh, è quello di avere qualche informazione un po' più chiara, ok, se effettivamente ci possono essere degli spiragli o comunque appunto della possibilità di fare business insieme a quella persona. La domanda è questa, caro prospect, caro Mario, di cosa hai bisogno per essere tranquillo, sereno, per poter fare del business insieme oggi? Quindi, di cosa hai bisogno oggi di cosa hai bisogno per poter iniziare a fare del business insieme? Ecco, vedi, con questa domanda chiaramente aperta, perché permette al tuo interlocutore di darti una risposta comunque argomentata, possiamo individuare, possiamo far sì che le persone, che la persona, che il nostro interlocutore, che il nostro prospect, ci dia comunque qualche informazione, qualche criterio, qualche, come dire, risposta strategica, che ci possa permettere di capire un po' meglio dove possiamo andare a raddrizzare la nostra trattativa o che cosa appunto è importante nel suo processo decisionale d'acquisto per poter convincersi maggiormente che noi siamo l'azienda, il professionista, che abbiamo quindi il prodotto e il servizio giusto, più giusto per lui. Ok? Quindi, caro Mario, che cosa oggi ti farebbe stare tranquillo, sereno e quindi iniziare a fare questo business insieme? Di cosa hai bisogno oggi esattamente? Che cosa ti farebbe scegliere con più serenità di fare business insieme? Ecco, vedi, con questa domanda provala e poi rispondi nei commenti qui sotto e dimmi com'è andata. Ti posso garantire che permetterà al tuo interlocutore di aprirsi maggiormente e soprattutto permetterà a te di aumentare esponenzialmente la tua probabilità di avere informazioni strategiche su cui puoi andare a lavorare per offrire una soluzione migliore. Naturalmente, come dico sempre, non esistono domande o strategie che funzionano sempre con tutti, ok? Ma questo è un aiuto per aumentare le probabilità di aiutarti a fare meglio la tua trattativa commerciale. Ok? Bene, un forte abbraccione da Fabio Cibello e il coach venditori qui da Milano. Metti in pratica questa domanda e scrivi nei commenti nei prossimi giorni insomma com'è andata. Ciao, un abbraccione e iscrivete a questo canale per rimanere informato e ricevere tutti i nuovi video di Fabio Cibello il coach dei venditori sulla psicologia della vendita e sulla psicologia dell'acquisto. Ciao, a presto!